Ciao a tutti, sono Scarlet, vi parlo dalla mia stanza e oggi facciamo due chiacchiere sul Natale. Oggi video chiacchiericcio, come non facevo da un po' di tempo, in realtà non mi mostravo in camera da parecchio tempo, sì. Risponderò alle domande di questo tag, il tuo Natale, che è stato ideato dai due canali Un Po' Questo e Quello e Sole di Sicilia, di cui vi metto il link giù nel video box, e dal quale sono stata invitata a partecipare da Un Po' Questo e Quello, quindi da Vincenza, che ringrazio e saluto. E direi di partire subito con la risposta alle 16 domande del tag. Ma prima, vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Domanda numero 1, cosa significa per te il Natale? Al di là del significato religioso, che diciamo da un po' di tempo tralascio, per me il Natale significa serenità, significa gentilezza, significa bontà d'animo. Quindi per me il Natale è quello stato d'animo, che un po' tutti dovremmo portare nel cuore, non solo a dicembre, ma sempre. Domanda numero 2, qual è il primo regalo che ricordi di aver ricevuto? Eh, allora, in realtà non ricordo perfettamente se sia proprio un regalo di Natale, ma più o meno credo di averlo ricevuto in quel periodo, nel mio primo anno di vita, e quindi praticamente avevo tre mesi. È vero nostro anche, perché ce l'ho qui, ed è lui. Lui si chiama Ciuffo, è un po' zozzo perché sono andata a prenderlo proprio nell'occasione di questo video a casa dei miei genitori, stava in soffitta. Ciuffo è stato appunto forse la prima bambola in assoluto che ho ricevuto, ed è stato il mio migliore amico per tantissimo tempo. Ed è adesso arrivato a casa di Scarlett. La terza domanda invece chiede di dire qual è il primo regalo che abbiamo fatto. Eh, io voglio dire, è passato così tanto tempo che assolutamente non penso di potermelo ricordare. No, assolutamente, sono troppi gli anni che mi porto sulle spalle e no, non me lo ricordo. Domanda numero quattro, il tuo addobbo natalizio preferito? Ora, anche se sono spente, perché davano fastidio in camera, il mio addobbo natalizio preferito sono sicuramente le lucine. Tutte le luci, possibilmente di colore caldo, per me riempiono la casa, danno atmosfera, danno calore, non esiste addobbo natalizio senza le luci. Domanda numero cinque, albero o presepe? Sicuramente albero, mi piace tantissimo fare l'albero e il presepe non mi piace farlo, non mi piace nemmeno guardarli, anche se in realtà ci sono dei presepi che sono delle vere opere d'arte. Però no, preferisco l'albero. Domanda numero sei, hai tradizioni per la vigilia di Natale o per il Natale? La mia unica tradizione è quella che la vigilia di Natale si passa in famiglia con mamma, papà e possibilmente anche sorella. Dico possibilmente perché la sorella è sposata e si deve dividere. Tra una famiglia e l'altra, che tra l'altro è un pensiero che io odio e abborro totalmente. Credo che fra le tante cose per cui resto, restia al matrimonio ci sia anche questa. No, per me, io l'idea di passare la vigilia di Natale lontano dei miei è una cosa che non mi piace assolutamente e che non la sopporto. Quindi la mia tradizione primaria di assoluta importanza è quella di stare con i miei alla vigilia di Natale e anche il giorno di Natale. Domanda numero sette, cena da passare in casa o fuori? Dato che è un tag di Natale, do come presupposto principale che sia la cena della vigilia ed è assolutamente da passare in casa. Sì, da passare in casa perché Natale vuol dire anche i vari litigi che si hanno fra mamma e figlie, fra papà e figlie. Vuol dire anche vestirsi carini all'inizio ma poi togliersi le scarpe e mettersi le pantofole. Vuol dire andare a prendere il plate perché ad un certo punto fa freddo e chi se ne prega della cena ti copri. Il Natale è anche questo, no? Non è solo il cibo che c'è in tavola e quindi assolutamente a casa. Vacanze bianche o vacanze con la famiglia? Per lo stesso motivo della domanda precedente, vacanze con la famiglia è assolutamente non vacanze bianche che credo siano le vacanze sulla neve. No, non mi piace la neve. No, vacanze in famiglia. A casa, senza andare fuori. Domanda numero 9. Adorni la casa? Assolutamente sì, se fosse per me inizierei ad adornarla a fine estate, ma non è una cosa fattibile. Sì, adorno la casa, ammetto quante più cose posso. Se fosse per me farei un albero di Natale in ogni stanza. In realtà un anno l'ho anche fatto, ne ho fatti due. Uno qua e uno in camera da letto. In questo modo sto rispondendo anche all'altra domanda, che è se adorni la casa, come? Mi piace particolarmente creare delle cose fatte da me. Ora, sull'albero quest'anno non c'è niente di fatto da me. L'anno scorso, non so se ricordate, avevo gli angioletti in carta che avevo fatto io. Adesso ho delle cose fatte da me in giro per casa. Sì, non poteva essere altrimenti. Domanda numero 11. Outfit natalizio? Per me l'outfit natalizio deve essere curato. Non eccessivamente, ma deve essere curato. Il capello fatto bene, il vestito carino. Vestito che poi sia... Non sto parlando proprio della specificità dell'abbigliamento, ma penso che sia bello essere curati a Natale, anche se si sta in casa solo con i propri genitori, perché io lo vedo come un gesto di rispetto verso gli altri. Ecco, sono felice di passare la serata con te, la festa con te, tanto da prepararmi per farlo. Domanda numero 12. La tua canzone di Natale preferita? Allora, la mia canzone preferita di Natale è Carole of the Bell. Quest'anno ho scoperto la versione dei Pentatonix, che è davvero qualcosa di favoloso, e ve ne metto un pezzo alla faccia dell'articolo 13. Domanda numero 13. Il film di Natale preferito? Sono tutti i film. In realtà, la mia storia di Natale preferita è Il canto di Natale di George Deakins, e quindi tutti i film che traggono ispirazione da quella storia, sono i miei film preferiti natalizi, ogni anno ne guardo almeno un paio, giusto ieri sera ho visto la versione del 2009. È una storia troppo bella, e per me quella è la storia di Natale. Domanda numero 14. Chiede se per me a Natale l'atmosfera è magica. Ora, io sono una che crede nella magia sempre, a prescindere. Sì, la magia esiste ed esiste maggiormente a Natale, la magia del cuore, la magia dell'anima, la magia della mente, e anche per questo penso che portarsi tutto l'anno lo spirito natalizio sarebbe davvero una gran cosa, soprattutto in questi tempi in cui stiamo facendo un po' pena. Domanda numero 15. Cosa chiedi a Babbo Natale? Ora, distorgo un po' l'attenzione da voi. Babbo Natà, te lo dico proprio così, troncato, con il modo fare tipico del dialetto calabrese. Vedi tu un po' cosa devi fare, perché gli ultimi due anni sono stati proprio... e al di là dell'ironia e del sarcasmo, lasciamo le cose così come stanno, non mi togliere niente quest'anno, ok? Grazie. La domanda numero 16 chiede di taggare chi voglio. Tutte le persone che avrei voluto taggare sono state già taggate da altri, già l'hanno fatto, non so se è stata taggata all'angolo degli arcani, che tra l'altro ha già fatto un altro tag, ma se ti va di farlo, come sempre guarderò il tuo video. Tutti gli altri, se non siete stati taggati, se ancora non l'avete fatto, e vi va di farlo, il tag di Natale è la cosa più bella che ci sia a dicembre. Le domande del tag sono finite, ma prima di salutarvi ho un compito da assolvere. Un compito che piacevolmente assolvo ed è quello di salutare la mia piccola amica Lorena, che so che guarda tutti 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 i miei video e quindi Lorena professa mantenuta ti saluto e ti mando un bacio a te grande. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio ed una candy cane grande grande. Ciao!